Papa Rupert lascia, ma il gioiello dell'impero Marduk resta in famiglia. A 84 anni, il magnate fondatore del gruppo ha annunciato che cederà il ruolo di amministratore delegato della 21st Century Fox al figlio James. Insieme a lui, alla prova del fuoco in occasione dello scandalo intercettazioni che portò alla chiusura del britannico News of the World, è stato promosso anche il fratello Lachlan. A tirare i fili resterà comunque Rupert Marduk. La promozione di James ad amministratore delegato e dell'altro figlio Lachlan, che è già co-presidente e ha co-presidente esecutivo, è un cambiamento limitato ma significativo. Promuovendo i figli in rolli chiave della società che gestisce le attività del gruppo in ambito di cinema e televisione, Papa Marduk assicura così la successione del suo quarto potere, un impero da oltre 100 quotidiani che comprende anche i canali del Bucke Fox e il gigante di produzione e distribuzione 20th Century Fox.